Il primo punto di estrazione è compromesso. Procedete al punto secondario, a sud dal ponte. Presenza del nemico, incente. Fa troppo caldo. Temperatura ambiente, per favore. La birra deve essere bella fredda. Una lager, forse. O un bicchier d'acqua, come quella che bevi tu. Ma una pinta di birra scura? Dovrò insegnarvi un po' di cose quando torneremo in America. In ogni caso ci fermiamo prima a Londra. Offro io. Beh, almeno il mondo è ancora qui. Andiamo.